Il 17 agosto scorso si è accordata che le prossime elezioni alla presidenza del club si celebreranno il 20 e 21 di marzo 2021, coincidendo con il primo fine settimana immediatamente posteriore all'inizio del periodo fissato dallo statuto del club per celebrare questa elezione. Viste le circostanze straordinarie derivate dalla pandemia del Covid-19 e con l'obiettivo di preservare la salute di tutte le persone e di aumentare la partecipazione, la Giunta ha deciso che queste elezioni potranno celebrarsi in un lungo fine settimana, quindi sabato e domenica. E in varie sedi verranno ripartite in tutto il territorio e si abiliterà l'opzione del voto per posta. Ma adesso ovviamente la Giunta Direttiva non può decidere, non può dirci anche la parte regolamentare che si dovrà strutturare, che immagino, penso, con la commissione elettorale che si verrà a creare. Detto questo però ci sono due dati importanti. Il voto per posta, attenzione per posta, non è un voto elettronico, per posta, un po' più o meno, vedremo poi come si dovrà fare, come stiamo facendo noi dall'estero per inviare le papeletas firmate e per la mozione fiducia ovviamente ci verrà inviato probabilmente la scheda elettorale. Io vorrei capire, già penso, la tempistica, come si arriveranno in tempo. Non arrivano in tempo quelle per votare i governi nazionali, immaginate per votare il Barca, il presidente del Barca. Nel 2021 ancora stiamo giocando con queste cose, quando il club da quasi, da più di dieci anni, possiamo dire da dodici anni, ci ha insegnato a noi soci ad usare la chiave e il PIN. Noi siamo tracciabili, io, Massimiliano Morgante, sono tracciabile tramite una chiave che mi dà il football club Barcellona e posso fare operazioni tramite un PIN che è collegato a quella chiave. Arrivare addirittura a parlarmi di voto di per posta, stiamo veramente al secolo scorso. E allora, caro Bartomeu, visto che ti stai comportando quasi come Donald Trump, perché non ti dimetti, caro José Maria Bartomeu? Ti dimetti e fai una più bella figura, riesci a passare per quello che non ha, fino all'ultimo, seduto col Bostic sulla propria poltrona e fa un servizio a tutta la massa sociale del club. Ma ma se c'è troppo soldi in messo? C'è troppe cose, troppe cose. Troppi interessi in messo. Troppi interessi che fanno cura. Questo vedremo come verrà strutturato, capiremo come verrà fatto. E' inquietante, è abbastanza inquietante, io lo dico, oggi a Catena Ser Catalunia. Io quando l'ho ascoltato sono letteralmente caduto dalla sedia dove ero. Perché Figueras, che è il segretario dello sport della Generalità di Catalunia, ha detto testuali parole a Kiteciugas, un programma radiofonico di Catena Ser Catalunia. che preferirebbe che l'Assemblea non si faccia, il Barzo ha fissato oggi la data al 25, e non si faccia neanche telematicamente per paura, per salvaguardare la salute, per paura del Covid. Le raccomandazioni che lui, come segretario dello sport, possiamo definirlo, il signor Figueras, come un assessore di una regione italiana allo sport, però con tantissima autonomia, come quella catalana, quasi un mini-ministro dello sport, per parlare con un linguaggio italiano, quindi una persona che fa parte del governo catalano, ha detto, le raccomandazioni che stiamo facendo in questa materia, la giunta direttiva del Barzo, è di non fare l'Assemblea, di prendere le decisioni come giunta direttiva, e ratificarle in una assemblea prossima, quando sarà finita la pandemia. Signori, questo sarebbe un colpe di Stato, un colpo di Stato. Io sono letteralmente caduto dalla sedia, oggi quando lo ascoltate, da un membro del governo catalano, che con questa opzione, lui dice di parlare per garantire la salute dei soci, quando si costringerebbe il club a un colpo di Stato, perché la giunta direttiva non può e non deve decidere su un potere legislativo che è dell'Assemblea. Signori, qui il potere esecutivo si va sommando a quello legislativo, non c'è più nessun controllo, diventiamo un club di un padrone, in questo caso di un gruppo di padroni, e questa cosa bisognerebbe fare le barricate al Camp Nou, altro che scendere per Messi, me ne frego di Messi, non mi interessa Messi, è il nostro modello, è i nostri valori che sono toccati, anche da questi politici irresponsabili, che credono, che hanno il terrore perché il capitalismo mondiale ha distrutto la salute, ha distrutto tutto quello che era possibile per la collettività, e questi politici, servi del liberismo mondiale, si sentono in diritto di parlare della salute dei cittadini, vergogna, vergogna, vi siete approstati, appenecoronati, al capitalismo ienchi, e questo è il risultato, che in un club dove c'è un nazionario popolare, si viene a parlare di unire il potere legislativo a quello esecutivo, non c'è più nessun controllo, non c'è nulla, vergogna, vergogna da un politico, vergogna, veramente è uno schifo, siete tutti uguali in Italia, in Catalogna, in Espagna, siete tutta una massa dei ladri e dei pecoroni, appegheronati al capitalismo, all'ilberismo ienchi e mondiale, questo siete arrivati a fare, veramente il signor Figueras si dovrebbe vergognare per quello che ha detto oggi, non perché viene fatto un favore a Bartomeu e compagnia, ma perché si distruggono le fondamenta e le basi di un club che vive da oltre 120 anni sull'azionario popolare, dove i soci sono i massimi responsabili e padroni del club, proprietari, non padroni, proprietari, il potere esecutivo si mangia il potere legislativo, nel 2020 dove un'assemblea di soci si può risolvere tranquillamente con i mezzi tecnologici, ci viene a fare il signor Figueras un discorso di questo genere, si vergogni, se ne vada, vada a casa, ci vada a nascondere, per quello che dice, perché la salute dei cittadini non si risolve diminuendo le garanzie e le libertà collettive, non dell'individuo, perché la vostra società occidentale vi ha portato a pensare che la libertà individuale è dire fare quello che a cazzo vi pare a voi, quando la libertà è collettiva, e questa gente non sa neanche cosa significa né la democrazia né la libertà, vergogna, fate schifo, vi dovete vergognare, politici, italiani, catalani, spagnoli, americani, inglesi, tedeschi, ve dovete andare a casa, vi dovete vergognare di quello che state dicendo, vergognare, e di quello che state facendo, è assurdo, e io non volevo da questa tribuna parlare anche di queste cose, ma mi ci porti signor Figueras, mi ci porti, dopo le stronzate che hai detto oggi, e su questo, su questo, su questo bisogna mandare, il popolo, in questo caso la massa popolare, dei soci bloggrana, devono mandare a casa, questa giunta direttiva, con la mozione di sfiducia, e mandare a casa questi politici, che si sono appegaronati, presso a queste persone, mandarli a casa, firmare la mozione di sfiducia, per mandarli a casa, è quello che stiamo facendo, è l'appello che vi faccio, a chi può ancora ascoltare, specialmente in Catalunia, il potere esecutivo, non può essere, non può fagocitare il potere legislativo, e proprio perché, proprio perché, e poi lascio la parola Alberto, e parliamo di Messi, proprio perché, c'è la possibilità, con 7500 firme, che si sono raggiunte, raggiunte, fino adesso, scusate, fino a lunedì, adesso, ovviamente, saranno molte di più, e vedremo lunedì prossimo, nell'altro aggiornamento, che cosa succederebbe, tecnicamente, se, verrebbe approvata, la raccolta firme, come regolamentata allo statuto, che il Football Club Barcelona, vive, un momento, più traumatico, della sua storia moderna, ne siamo, tutti completamente d'accordo, diciamo che, Leo Messi è stato, l'elemento che ha scatenato, la situazione di Messi è stata, l'elemento che ha scatenato, la rabbia della massa sociale, contro l'attuale giunta, direttiva, e del presidente Bartomeo, quando ha chiesto, per il burofax, che il club, gli dava la carta di libertà, per svincolarsi dal club, è arrivata tutta una serie di reazioni, fino, insomma, a presentare la mozione, di sfiducia, contro l'attuale giunta, che, vediamo un po', la, cosa dice il regolamento, cosa dice il regolamento, in quel senso, allora, intanto, come abbiamo detto, serve il 15% del 20% di firme, per andare al voto della mozione, a quel punto, se si dovesse raggiungere, i promotori, della mozione, di sfiducia, dovranno comunicare, per scritta, la giunta direttiva, il loro proposito, la giunta, di sfiducia, questo è quello che è successo, quello che è successo, ok, allora, sì, una volta che, tu fai tutti i passi, così la gente capisce bene, sì, allora, i promotori della mozione, di sfiducia, hanno comunicato, per iscritta, la giunta direttiva, il loro proposito, la giunta direttiva, ha consegnato, le papele, dal centro, cinque giorni feriali, poi, una volta presentata, formalmente, la mozione di sfiducia, si costituirà, questa tavolo, della mozione, di sfiducia, tavolo, tavolo, della commissione elettorale, questo tavolo, sarà integrato, dai primi, due soci firmatari, due membri, della giunta direttiva, un delegato, della federazione, catalana, di football, che sarà, chi presiderà, il tavolo, il presidente, una volta costituito, questo tavolo, si, eh, comproverà, che questa mozione, compie tutti i requisiti, e avrà dieci giorni, appunto, per farlo, quando questa richiesta, verrà ammessa, si chiederà, alla giunta direttiva, di convocare la data, per realizzare la votazione, la convocatoria, della votazione, la convocazione, della votazione, deve essere pubblicata, dalla giunta direttiva, soltanto potranno votare, i soci che abbiano, la condizione di elettori, la mozione di sfiducia, trionferà, se si ottengono, due terzi, o più dei voti, sempre che il numero di questi, sia come minimo, del dieci per cento, dei soci del club, così dice, lo statuto, e se vince, la mozione di sfiducia, i membri, della giunta direttiva, sfiduciati, verranno rimossi, da loro in carico, autonomamente, quindi, più o meno, possiamo dire, che se passa, la raccolta firme, per ottobre, quindi, se è stata fissata, per il 25 di ottobre, l'assemblea, c'è il rischio anche, che prima venga votata, la mozione di sfiducia, ma poi entriamo anche, in quel meccanismo, se ci sarà questa possibilità, di votare la mozione di sfiducia, perché si arriva, alle firme, alle 16.520 firme, richieste, che succede, si farà, verrà avvicinata, al giorno, della partella, dell'assemblea, verrà posticipata, dopo, verrà anticipata, l'assemblea, oppure, e come ci sarà la votazione, come è stato scritto, anche per, per evitare, assembramenti, anche per, anche per, mettere, tanti punti nel territorio, fare il voto, per posta, ecco, tutte queste cose, sarebbero, da, subito e meramente, da comunicare, no da comunicare, da dibattere, da risolvere,